Quello delle assunzioni e dei concorsi per la scuola sta diventando ormai un vero e proprio giallo, di cui almeno per il momento non si vede ancora la soluzione, mentre i giorni e le settimane scorrono inesorabilmente. All'inizio del nuovo anno scolastico mancano meno di cinque mesi ed è davvero difficile credere che questo tempo possa bastare per portare a termine tutte le procedure che servono per mettere in cattedra i docenti necessari per un avvio regolare delle lezioni. La situazione, già molto difficile, si è ulteriormente complicata proprio negli ultimi giorni a seguito dell'approvazione del Decreto Legge 44 che contiene alcune disposizioni, quelle dell'articolo 10 che non sembrano particolarmente cristalline. Le norme in questione, espressamente volute dal Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, parlano di semplificazione dei concorsi pubblici e prevedono che d'ora in poi la prova pre-selettiva venga sostituita da una selezione basata sulla valutazione dei titoli. Ma su questo non c'è molta chiarezza. È vero infatti che il decreto sembra prevedere che la norma valga anche per i concorsi già banditi, ma è anche altrettanto vero che le interpretazioni non sono concordi. La sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle ha chiarito alla tecnica della scuola che comunque il concorso ordinario è già stato bandito e dunque i titoli serviranno solo per l'accesso al concorso, ma la selezione avverrà e lascia intendere la sottosegretaria che anche la pre-selezione potrebbe essere confermata. Di tutt'altro avviso Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, che ha un'altra idea in merito e che ha presentato un disegno di legge per proporre un maxipiano di assunzione per titoli e servizio a cui possano accedere i precari con tre anni di servizio. Questi precari assunti con questa procedura verrebbero confermati al ruolo al termine dell'anno di prova previa valutazione positiva da parte del comitato di valutazione. Quanto all'idea di Brunetta di ricorrere alla valutazione dei titoli per fare una selezione iniziale, c'è chi lamenta che questa opzione potrebbe penalizzare i giovani. In realtà Brunetta replica, parliamo di titoli legalmente riconosciuti come i diplomi, le lauree e le specializzazioni accademiche. In questo caso è sbagliato evocare una presunta penalizzazione dei giovani che anzi, anche in ragione del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, spesso hanno acquisito titoli maggiori rispetto a chi si è laureato diversi anni fa. Per la verità non bisogna dimenticare che le nuove norme sui concorsi sono contenute in un decreto, il numero 44, che deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento. Decreto che anzi, proprio in questi giorni, sta iniziando il suo iter in Senato. C'è da augurarsi che il Parlamento riesca a fare chiarezza e a correggere eventualmente il testo del decreto in modo da renderlo più chiaro e inequivocabile. Il tema è molto interessante, molto attuale, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma continuate anche a seguirci sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre opinioni, le vostre considerazioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.